Gli intermediari contattavano gli imprenditori agricoli per concordare il numero e il compenso dei lavoratori da impiegare nelle varie campagne. I caporali poi trattenevano una parte del salario già inferiore al minimo previsto dai contratti collettivi e comunque decisamente sproporzionato rispetto alla quantità del lavoro svolto. Sono 16 gli indagati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta per l'attività di intermediazione illecita allo sfruttamento lavorativo e impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento. I tre anni di indagini della squadra mobile e dei carabinieri si sono sviluppati tra Delia, Sommatino, Palma di Montecchiara e Ravanusa nel Nisseno e nell'Agrigentino. Gli operai, in prevalenza stranieri in condizioni di disagio economico, venivano inizialmente reclutati a Caltanissetta e trasportati poi da caporali a bordo di furgoni in pessime condizioni di sicurezza nelle campagne. Per loro niente riposi, niente ferie, niente dispositivi di protezione, niente visite mediche, niente corsi di formazione per l'uso di sostanze nocive, solo quello che gli investigatori hanno bollato come sfruttamento sistematico.